Un saluto a me che amici, bentrovati e bentrovate. In questa edizione del magazine di Telecosta Smeralda parliamo di enogastronomia, sono state assegnate le stelle Michelin ieri a Modena, vedremo com'è andata per la Sardegna, parliamo anche di crociere perché continuano ad arrivare i croceristi in Sardegna, ieri festa a Cagliari per il crocerista numero 500.000. E ancora le tante iniziative di questi giorni, la settimana dedicata a Gigi Riva con tanti eventi che proseguono a Cagliari e poi festa anche a Sinai, nel fine settimana si celebra la tradizione, a Sassari il Sardegna Film Festival e poi le nostre cartoline di Sardegna. Ma cominciamo come dicevamo con l'enogastronomia, ieri a Modena sono state assegnate le stelle Michelin, quattro per la Sardegna, solo conferme ma ci sono anche uscite di scena importanti. Le stelle 2025 della più famosa guida ai ristoranti Michelin sono state assegnate a Modena con una cerimonia interamente dedicata al buon cibo e alla creatività della cucina italiana. Per la Sardegna nessun nuovo ingresso ma solo riconferme quattro le stelle dell'isola, due in meno rispetto allo scorso anno per la chiusura di due ristoranti, uno dei quali lo storico corsaro di Cagliari che ha visto tra i suoi tavoli politici VIP, elite, cittadine e coppie innamorate non ce l'ha fatta, nonostante la stella Michelin che vale tanto ma non è sempre sinonimo di buoni incassi. Un evento, quello di Modena, è arrivato alla sua settantesima edizione che è il più atteso dell'anno, almeno per chi ruota intorno al mondo della cucina, del buon cibo e dei viaggi. Le stelle sarde riconfermate sono andate ai Fradis Minoris di Nora con il sassarese Franco Starei Fornelli, unico chef sardo da aver ottenuto il riconoscimento, a Italo Bassi, della Confusion di Porto Cervo, a Luigi Bergeretto, del Fuoco Sacro di San Pantaleo e a Gusto by Sadler di Sant'Eodoro. Ottenere la stella Michelin significa molto perché è un valore aggiunto riconosciuto universalmente. Le stelle Michelin vengono assegnate ai locali attraverso la valutazione di cinque criteri. Gli ispettori valutano anche l'armonia e l'equilibrio dei sapori, la personalità dello chef e la coerenza nel tempo e del menù. Una stella, come si legge sul sito della guida Michelin, viene assegnata ai ristoranti che utilizzano ingredienti di prima qualità, dove i piatti, dai sapori distinti, sono preparati secondo uno standard costantemente elevato. Le due stelle indicano che la personalità e il talento dello chef traspaiono chiaramente dai suoi piatti, la cucina è raffinata e ispirata, le tre stelle vengono assegnate alla cucina superlativa di chef all'apice della loro carriera. L'altra faccia della medaglia è che a fronte di un grande impegno non sempre i clienti rispondono e spesso, nonostante la stella Michelin, il ristorante o il ristoratore è costretto a fare altre scelte. Sono buoni i numeri del mondo delle crociere in Sardegna. Cagliari è invasa dai croceristi e ieri c'è stata una festa speciale con un premio da parte della Cagliari Cruise Sport per il passeggero numero 500.000. Roberto Carta. Mezzo milione di croceristi, il porto di Cagliari ha festeggiato lo storico traguardo premiando il passeggero numero 500.000 sbarcato nel capoluogo. Il fortunato, un turista calabrese, ha ricevuto al suo arrivo due biglietti aerei per tornare a Cagliari e un soggiorno per due persone per conoscere meglio la città. Una città che continua, anche a novembre, a fare il pieno di crociere come dimostrano le tre navi contemporaneamente in porto rispetto allo scorso anno. Sono 76 gli accosti in più per un totale di 178 navi da crociera sbarcate a Cagliari. Per la prima volta ci sono anche gli scali nei mesi invernali che garantiscono un'importante ricaduta economica per il territorio distribuito in tutto l'arco dell'anno. Il capoluogo ha inoltre fatto registrare un incremento superiore al 50% dei turisti arrivati grazie alle crociere e il traguardo del mezzo milione di croceristi rappresenta un record per la Cagliari Cruise Sport che entro la fine dell'anno prevede di chiudere vicino a quota 700.000. Questa è la settimana dedicata a Gigi Riva che domani avrebbe compiuto 80 anni, la Gigi Riva Football Week, che sono tantissime le iniziative. L'apice domani con Savvesta al teatro lirico, ma tante iniziative anche nella giornata di oggi. Alle 18 c'è al Notorious Cinema il documentario di Riccardo Milani dedicato a Gigi Riva, la proiezione con il registra presente e poi una serata stasera al doppio malto dedicata ai ricordi e al ricordo di Gigi Riva. Ancora al planetario di Cagliari si potrà osservare il cielo di Gigi. Un cielo diventato leggenda è quello del 7 novembre 1944, che 80 anni fa vide nascere Gigi Riva sotto le stelle di Legiuno, nella notte in cui è iniziata la storia del mito, la storia del bomber che trascinò il Cagliari a vincere lo scudetto del 1970 ed è l'uomo che scelse di diventare sardo. In occasione della Gigi Riva Football Week, la settimana che celebra gli 80 anni della nascita del bomber, il cielo di quella notte di Legiuno rivive nuovamente al planetario dell'Unione Sarda, che proporrà fino a domenica la proiezione della volta celeste del 7 novembre 1944. Andremo a vedere il cielo della nascita di Gigi Riva, esattamente come lo vide lui quando arrivò sul pianeta Terra nella notte del 7 novembre 1944, ma non qui da Cagliari, dal suo luogo di nascita, un luogo più a nord nella provincia di Varese. Vedremo la luna che è protagonista in parte di quella notte, i pianeti osservabili, vedremo poi una grande storia che ci accompagna in questi notti d'autunno, che è la storia di Andromeda che viene salvata da Perseo, un grande affresco che Gigi aveva sopra la sua testa, che racconta di un eroe leggendario e in fondo anche lui è diventato un eroe leggendario. Un cielo, quello del 7 novembre 1944, che non poteva che essere speciale. Credo che proprio la presenza di un eroe che salva, diciamo, una principessa è forse stato un buon auspicio per lui, un combattente come lui. Entra nel vivo in questi giorni a Sassari il Sardinia Film Festival, un festival interamente dedicato al cinema d'animazione. Protagonisti sono anche i ragazzi. Ci racconta tutto Nicola Piso. La Sardinia dentro, l'isola al centro, è nel centro di una visione di promozione e valorizzazione dei luoghi. A questo aggiungiamo la magia del cinema. E allora ecco, il Sardinia Film Festival interamente dedicato al cinema d'animazione. Si insegna cinema attraverso una delle modalità più in auge adesso tra i giovani, che è quella dell'animazione. Questo è un ambito della cultura che va sostenuto, va rilanciato a Sassari. Abbiamo attività di questo tipo che ci sono da tantissimi anni. Quattro giorni di appuntamenti di proiezioni, di capolavori di animazione Sardi e internazionali, incontri con gli autori, lavoratori di stop motion, collaborazioni con le scuole e altri mondi. Una grande opportunità per tutta la comunità scolastica di arricchire l'offerta formativa di un aspetto che ancora non avevamo curato. Il coinvolgimento delle classi della scuola primaria. E ancora la versione dei ragazzi con cinque lungometraggi d'animazione europei. Quindi abbiamo voluto portare ai bambini la storia di Sassari. L'abbiamo studiato e abbiamo voluto portare noi la storia ai bambini in modo che inizino a conoscere un po' di più magari la loro città e i personaggi fondamentali di questa città. E in questo laboratorio abbiamo messo insieme la manualità, quindi la manipolazione della plastilina, lo sviluppo della creatività, la progettazione, insieme alla tecnica cinematografica dello stop motion che si fa attraverso tantissime fotografie. Insomma la Sardegna, la nostra, movimentata e perimetrata da immagini e suoni e storie. Storie, immagini e suoni di una terra unica. Ci proiettiamo già nel prossimo fine settimana, che sarà un fine settimana davvero ricco di eventi, un po' in tutta la Sardegna, da Cagliari a Sassari fino ad arrivare al centro della nostra isola. A Sinnai torna la manifestazione Arte, Tradizioni e Cultura organizzata dalla Proloco con delle meravigliose cose in mostra. Ci racconta Alessandra Dari. Un fine settimana all'insegna dell'artigianato, dell'arte e della cultura a Sinnai. La Proloco della cittadina agricola alle porte del capoluogo è infatti organizzato per il terzo anno consecutivo, insieme all'amministrazione comunale, una manifestazione che ha l'intento di far conoscere al grande pubblico tradizioni, saperi e antichi mestieri di un paese che ha saputo conservare nel tempo la sua identità, tre giorni di mostre, laboratori, visite guidate e seminari, un calendario denso di appuntamenti. Si inizia con il laboratorio dedicato a subistocude e caffèi, un dolce che tradizionalmente viene servito dopo un lauto pranzo o in occasioni di visite. La sua tipicità è stata persino riconosciuta con l'inserimento nel PAT, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali. Un posto d'onore avranno i cestini su Stregio de Venu, poiché quelli di Sinai sono tra i più ricercati dell'isola per la bellezza dei loro intrecci. Sono così preziosi i cestini di Sinai che esistono veri e propri piccoli musei, anche in case private dove vengono conservati ed esposti appesi alle pareti. Per l'occasione in questo fine settimana alcune di queste abitazioni verranno aperte e saranno visitabili non solo per ammirare la cestineria, ma anche per assistere a laboratori e dimostrazioni pratiche. Sarà visitabile anche la Casa Anedda di Via Oristano, che ospiterà la collezione privata di costumi Gigi Frigao con un angolo riservato agli scialli. Domenica la manifestazione si chiuderà con la visita alla Casa Froria e Anedda, la degustazione dei subistocchi e gaffei e l'esibizione dei tenore di Orgosolo. Altre esposizioni saranno presenti lungo le vie in centri culturali. Al di là dei singoli eventi, Sinai merita una gita fuori porta. Il centro agricolo ha conservato per la maggior parte il suo aspetto architettonico originale, case campidanesi con lolle fiorite, chiuse da portali finemente decorati, spazi urbani con piccole piazze e vie strette, tra le quali sarà un piacere fare una passeggiata. Le nostre cartoline di Sardegna con Maurizio Mellis. I Finici scelsero l'isola di Sant'Antioco per fondare nell'VIII secolo a.C. la loro prima città sarda, Sulchi, la cui deriva il nome del territorio sud-occidentale dell'isola. La città conserva tutt'oggi testimonianze archeologiche di tutte le culture che qui si sono succedute. Tra queste spiccano il toffet di età fenicio-punico e la necropoli punica. Sulchi rappresenta la città più antica non solo della Sardegna ma d'Italia. Il ritrovamento di un'antica anfora, una ceramica fenicia adattata addirittura all'800 a.C., testimonia infatti che il sito era già frequentato in epoca in cui, invece, in Italia non c'erano altri centri abitati. Il toffet, necropoli santuario dove venivano sepolti bambini nati già morti o defunti poco dopo la nascita, si trova nell'estrema periferia dell'abitato, ai piedi di una roccia trachittica. La necropoli punica è ritenuta una delle più importanti del Mediterraneo per estensione e tipologie. Una parte delle tombe ipogeiche furono unite con l'apertura di passaggi nelle pareti in comune. Si tratta dell'unico caso di presenza di catacombe in Sardegna. Uno sguardo alla nostra programmazione alle 20.30 va in onda stasera il programma Europa dai fondi alle idee con Leila Manunza, un'anticipazione. Spieghiamo ai nostri telespettatori prima di tutto che cosa sono questi recepi microbici utilizzati nei vari settori, quindi settore ambientale, sanitario, alghe, cellule. Di che cosa parliamo e perché sono così rilevanti? I cepi microbici sono fondamentali per la vita sulla terra. Noi sappiamo che i microrganismi, per quanto noi non riusciamo a vederli, sono ovunque, colonizzano qualunque habitat terrestre, marino, si trovano veramente in qualunque substrato e habitat ecologico della terra. E conservarli significa preservare un patrimonio genetico fondamentale che è di estrema importanza per aiutare l'uomo ad affrontare le sfide attuali. È tutto per questa edizione, vi ricordo che ci trovate su YouTube per vedere le edizioni del nostro TG Magazine. Vi ricordo che potete taggarci sui social, su Facebook, su Instagram e raccontarci i vostri racconti di viaggio appunto in Sardegna. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata in compagnia di Telecosta Smeralda. Grazie a tutti.